vedo che ci sono artisti che mi prendono per il culo ancora per aver pianto allo scherzo delle iene io beh sì non ho mai fatto il maschio alfa e mi interessa poco onestamente farlo ovvio tupac quando gli spararono fece il dito medio ma tupac era forte di me era più figo di me più stiloso di me amen me ne farò una ragione e nessuno mai detto il contrario tra l'altro mi sono mai erogato il diritto di essere per quanto riguarda lo scherzo delle iene io francamente sono abbastanza orgoglioso della mia reazione perché comunque dimostrato di non prendere per il culo i miei fan di non fare tutto per i soldi come vengo dipinto e di essere una persona trasparente che rispetta il proprio pubblico francamente mi interessa poco poi stare a fare il paragone se meglio il mio percorso artistico rispetto a uno degli altri ognuno faccia il suo percorso e vivetevi la vita serenamente io in questo momento della mia vita voglio proprio prestarmi poco a questo tipo di dinamiche detto questo sì sicuramente non sarò un macio non sarò un maschio alfa non mi interessa bella lì io piango e tupac più figo di me si sapeva già no ciao ciao ciao